Di Terra e di Luce, una collettiva qua a Castella Sismondo a Rimini, Americo Mazzotti e Paola Ceccarelli che fino al 7 dicembre portano le loro opere all'interno di questo straordinario antico maniero della città. Un'iniziativa che nasce in realtà al di là dell'aspetto culturale, o sbaglio? Sì, da un desiderio personale che ho sempre avuto di bellezza e che ha trovato come un alveo in cui scorrere grazie a un incontro inaspettato con il pittore appunto che espone con me, Americo, circa 20 anni fa. Mi sape guardare tutta intera, nel desiderio che io avevo, forse più di quanto io mi guardassi. E mi offrì un'amicizia, una compagnia, mi fece conoscere i suoi amici che lavoravano insieme nell'arte e nell'arte anche nelle chiese. E da questo essere guardata il mio sguardo sulla realtà, sul creato, è cambiato. Se anche tutti i capelli del nostro capo sono contati, anche un guscio di conchiglia, come le opere che vedete qui, portano una traccia del mistero. Queste opere sono state prestate dai proprietari attuali e questa mostra si è potuta fare grazie ai prestiti delle persone proprietari di queste opere. Ho lavorato molto a Rimini e quindi alcuni riminesi, comprese le chiese di San Paterniano e la chiesa delle celle hanno prestato, diciamo, le opere più importanti, più significative di questo periodo. La dimensione della memoria è proprio il nucleo centrale del mio agire pittorico. È in questo mondo che, come dire, facilmente perde la memoria di sé, dipingendo costringo chi guarda a ripercorrere la propria memoria, le proprie radici, la propria identità.